L'egemonia di un certo pensiero di sinistra, radical chic, di questo tipo aveva preso un po' troppo piede e l'ho detto più volte, come più volte ho detto che non ho pianto perché se n'è andato Fazio No, ma non le dire troppe No, perché a me quel quadretto lì, sempre con gli stessi bravissimo Fazio perché ha portato personaggi straordinari bravissimo però tutto quel quadretto lì con la messa in scena sempre le stesse persone che si piacciono tutti, che si amano tutte a me mi stava un po' sulle scatole